Sono ormai alcuni anni che utilizzo la piattaforma Top Doctors e devo dire sono molto contento perché mi permette di avere un contatto diretto con le persone, di pianificare al meglio le mie agende, i miei appuntamenti e in qualche modo mi permette di recuperare molto tempo, cosa che per noi professionisti è estremamente importante. La tecnologia che oggigiorno è fondamentale per noi, quella digitale, abbatte un pochino le distanze tra i professionisti e i medici. La piattaforma Top Doctors mi mette a disposizione un contatto diretto e quindi la possibilità di pianificare al meglio le mie agende e sicuramente mi ha accelerato tutta una serie di processi che altrimenti sarebbero stati telefonici o mediati da un'altra persona. Invece devo dire assolutamente funziona. Sicuramente consiglierei la piattaforma Top Doctors perché è molto pratica, anche semplice, non serve molto tempo per entrare un po' nel meccanismo e permette di avere più visibilità e al tempo stesso di avere un contatto diretto con tutti i pazienti che chiedono le nostre cure. Oggigiorno la divulgazione scientifica è probabilmente una delle cose più importanti per chi fa medicina. La divulgazione può avvenire in vario modo, io faccio numerosi congressi scientifici ma per arrivare in maniera più diretta a tutte le persone, a una platea più ampia, pubblicare video ma anche articoli scientifici sulla piattaforma digitale Top Doctors mi ha permesso, credo, di arrivare maggiormente, per così dire, in maniera diretta a tutti quanti i pazienti che potevano beneficiarsi. Da cui è uno di quei sistemi che consiglierei di allottare a chiunque entra a far parte del gruppo della famiglia di Top Doctors. Per quello che riguarda le recensioni sono un meccanismo che può utilizzare l'utente per verificare in qualche modo la serietà ma anche la disponibilità del professionista. Io sono estremamente orgoglioso di queste valutazioni e le leggo sempre con grande curiosità e con grande piacere e penso che utilizzate in maniera corretta come quella della piattaforma Top Doctors possano essere effettivamente un buon sistema per l'utente per verificare il professionista e quindi è giusto mettersi a disposizione. Devo dire, oggigiorno essere indicizzati, essere su internet, penso sia quasi un dovere perché se davvero vogliamo fare qualcosa per un'altra persona dobbiamo far arrivare il messaggio a più persone possibili. Non è una questione soltanto né economica né di marketing ma appunto di divulgazione delle proprie competenze. Per cui per chiunque ancora non ha utilizzato una piattaforma e voglia utilizzarla credo che prima o poi ne sarà costretto dalla normale evoluzione delle cose.